Il letto di Leonardo si crede che solo lui può fare queste cose, già avendo 30 anni, challenge accettata, da fermo salto supero completamente il letto Aspetta no no ce la posso fare, prima che finisce il tempo, prima che finisce il tempo Ragazzi buongiorno, intanto questa settimana non devo girare un milione di cose tra cui un progetto vabbè No, no, ma escono sempre al momento giusto Quindi buongiorno a tutti, da me e Franco Comunque stamattina mi stanno rimontando la fibra ottica perché questi giorni sono stato praticamente con la saponetta E volevo ringraziare i ragazzi del centro Vodafone di Civitavecchia perché senza di loro fare nulla Del vampiro No, grande, Connor, piacere di conoscerti, io sono Leonardo Ciao bro, how are you? Nice to meet you No, grande, Connor, piacere di conoscerti, io sono Leonardo Ciao bro, how are you? Nice to meet you Un passo avanti on the jungle, un altro indietro Che ne sa c'è io, do 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 santo graal Come? Non trovo una cosa sto spiegherando Calcio mortale pezzo di merda Se lei si ammalasse di covid, rinuncerebbe al servizio sanitario nazionale? Sì certo, sì certo, mi assumo la responsabilità Ma il covid l'ho già avuto, io il covid l'ho già avuto Sono un portatore sano, scappate giornalisti Il covid l'ho già avuto e sono un portatore sano, vergognati Comunque vi ho chiesto dove andare a fare le castagne perché questo fine settimana Io e degli amici andremo in montagna, stavamo cercando qualcosa in zona Milano Barra Bergamo per andare a fare le castagne E gireremo anche un sacco di contenuti, tra cui un bel vlog No grande, Connor, piacere di conoscerti, io sono Leonardo Hey ciao bro, how are you? Nice to meet you Ragazzi miei, comunque mi dimentico sempre di farlo ma vi volevo regalare, per offerto ovviamente a tempo limitato Tre mesi gratis di Amazon Music, invece che un mese ve ne regalo tre Vi lascio il link, fate come vi pare, se volete ascoltare la musica per tre mesi gratis Se vi piace, tiè, ecco qua Volevo fare una storia, siamo in... dentro casa siamo in quattro, ok? Emily che beve l'MD Io ho fatto più bienti Giovanni che qua... che qua... Non è vero ragazzi E poi c'è il fratello Niente ragazzi stasera è partita la serata Da che stavamo lavorando È partita la serata in cui Emily e Joe mi sta cercando moglie Invece secondo me ti dirò che qualcuno citofonerà alla mia porta adesso Mi hai cercato moglie, ok Ti sto cercando moglie e secondo me ti arriverà tra poco a casa, l'ho già ordinato Guarda Tre, due, uno Primo piano, grazie Non è vero, è quello di globo, penso di merda Non è vero, non è vero